All'Ocri la Guardia di Finanza ha scoperto alcune persone responsabili di una indebita percezione di assegni sociali ai danni dell'Inps, richiedendo contestualmente l'applicazione della misura del sequestro preventivo per equivalente. L'attività investigativa condotta dai finanziari ha riguardato alcune persone che di fatto risultavano emigrate nei paesi dell'America Latina, dove avevano stabilito la fissa dimora pur risultando anagraficamente residenti nel nostro paese e che al compimento del 65esimo anno di età rientravano in Italia per il tempo strettamente necessario per adempiere le previste formalità per l'ottenimento dell'assegno sociale istituito con la legge nazionale, la 335 del 1995. Sotto il costante coordinamento del procuratore capo della Repubblica, il pubblico ministero titolare del fascicolo processuale, condividendo la testa investigativa corroborata dagli imprescindibili elementi di prova individuati, avanzava la richiesta al giudice per le indagini preliminari di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Il giudice per le indagini preliminari all'esito delle proprie valutazioni, avendo accertato l'assenza di uno dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale, vale a dire la dimora abituale e stabile sul territorio nazionale, ha riconosciuto la sussistenza del FUMUS della truffa aggravata ai danni dell'Inps disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per oltre 300.000 euro nei confronti di 12 indagati in ragione dei valori immobiliari, mobiliari di cui ognuno risulta intestatario.